Erano giorni che i carabinieri della stazione di Francavilla al mare, dopo diverse segnalazioni da parte di residenti vicino a Piazza Sant'Alfonso, si erano appostati nei pressi di un garage per documentare gli strani movimenti del corriere di una nota società di consegna. Il ragazzo, un 29enne originario della provincia di Bari, ma domiciliato in quella di Chieti da qualche tempo, è stato però bloccato nella giornata di ieri, mentre era intento, in regolare divisa da lavoro, a scaricare degli scatoloni. Una volta intervenuti, i militari lo bloccano e, avviata la perquisizione all'interno dei cartoni, trovano una vera boutique della droga. 65 kg di marijuana in confezioni da un chilo ciascuna, 33 kg di hashish in confezione da 250 grammi circa e mezzo chilo di cocaina divisa in busse da 100 grammi. Ma c'è di più. I militari iniziano a spulciare il telefono dell'uomo e trovano le foto di una serra attrezzata in maniera più che professionale. Ventilatori, impianti di irrigazione, lampade alogene e umidificatori. Le foto riconducevano ad un indirizzo di San Vito Chietino. I militari, una volta arrivati sul posto, si trovano davanti a due celle frigorifero. La prima con oltre 230 piante di canapa già alte 30 cm e l'attrezzatura per farle crescere. La seconda, ancora in fase di allestimento. L'uomo, immediatamente arrestato, ora dovrà rispondere dell'accusa di detenzione, spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti, con il rischio di subire una condanna di 15 anni.